Con oggi si conclude un corso di due giorni sulla pianificazione avanzata e la validazione del prodotto processo nell'automotiva, che ha visto la partecipazione di otto persone di variate aziende nel settore e il corso ha contenuto gli argomenti che sono relativi alla pianificazione e all'attuazione in maniera controllata delle attività di sviluppo di un progetto, quello che si chiama in gergo APQP, che sta per Advanced Product Quality Planning e come conclusione di queste attività c'è la validazione del prodotto processo, che è il Production Part Approval Process. Nella prima giornata abbiamo fatto un excursus sulla norma TS 16949 con i requisiti che la norma chiede, abbiamo visto che cosa è richiesto per la pianificazione, quindi per la PQP e oggi abbiamo visto che cosa le aziende dovrebbero fare per questa validazione del prodotto processo. I partecipanti adesso stanno facendo un test di fine corso, il superamento del quale è condizionante per il rilascio di un certificato di frequenza con profitto. Grazie. 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 Grazie.